Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, martedì 25 giugno 2019. Iniziamo subito con i quotidiani locali vedendo le prime pagine di Messaggero, la città e delle quattro edizioni del centro. Siamo subito sul centro edizione di Pescara, ancora le spine per quanto riguarda la composizione della nuova giunta comunale a Pescara. Masci via alla giunta senza la Lega e scontro con il Carroccio. Il sindaco parto con sei assessori sotto la testata, Olimpiadi della Neve, Milano, Cortina, Uniti si vince, giochi invernali del 2026 all'Italia. E poi ancora andiamo ai richiami APE sociale, pensione anticipata, domande entro il 15 di luglio. C'è tempo appunto fino al 15 di luglio per utilizzare la seconda finestra dell'anno per inviare all'Inps la domanda di certificazione per accedere all'APE sociale, cioè l'anticipo di pensione senza oneri sull'assegno. Bisogna affrettarsi per evitare la fine dei fondi. E poi ancora salute, autismo via al piano regionale di assistenza. Sono 751 le persone residenti in Abruzzo affette da autismo. Il dato è stato diffuso in occasione dell'approvazione da parte della giunta regionale del piano operativo. A centro pagina, vediamolo, quest'operazione di cronaca, truffa al concerto di Ligabue, vendute false fascette, sequestri a Pescara, denunciati quattro ambulanti. Di spalla, sempre a Pescara, travolto dal furgone, muore dopo quattro giorni. Non ce l'ha fatta, Tigliottini, 65 anni, da tutti conosciuto come Fulvio, investito da un furgone, cinque giorni fa inviale d'annunzio via libera della famiglia alla donazione di organi. E poi ancora a Caramanico, trovato il corpo, Fattiboni, giallo risolto. La figlia, grazie per l'aiuto dopo il ritrovamento dei resti di Carlo Rodrigo, Fattiboni, domenica nei boschi di Caramanico. La figlia Francesca ringrazia tutti coloro, soccorritori, istituzioni e forze dell'ordine, che l'hanno aiutata a rintracciare il papà scomparso. Furti in Val Pescara, assalto alle aziende, presi quattro banditi. E poi ancora, leggiamo sotto la testata, mare, ore di ansia, ragazzino disperso, dramma Giulianova, Silvia nega un anziano a Pescara, salvato bimbo di nove anni. Il buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna, quelle lettere di addio al mondo. Andiamo ora sull'edizione di Chieti del centro. Questa è l'apertura, pronto soccorso, caos e lunghe file. Chieti, appello del primario, servono più infermieri e spazi adeguati. E poi la foto, notizia, botte e sevizie ai coniugi, sconto di pena ai banditi, assalto in villa a Lanciano, processo al via. E poi i richiami di cronaca di spalla. Chieti si schianta con lo scooter, è gravissimo. Si è schiantato con lo scooter contro una Opel Corsa, due passi dallo stadio Angelini. Jonathan Leardi, 41enne di Manopello, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Pescara. E poi a Lanciano, Movida, protesta dei lumini contro i divieti. Otto lumini accesi in memoria di tavolini in sedie all'aperto che la soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha fatto rimuovere in piazza Plebiscito. Appunto a Lanciano è la protesta messa in atto dalle attività commerciali. Poi per il calcio, Chieti, contatti con Serpellini, Trevisan tratta. E poi ancora la cronaca a Vasto. L'anziana uccisa ha provato a difendersi, omicidio nella casa di riposo. La donna sopraffatta dai colpi dell'assassino. Andiamo ora sull'edizione aquilana del centro. L'apertura, sicurezza, ronde di vigili in centro. Il comune corre ripari dopo gli ultimi episodi di violenza. La fotonotizia a centro pagina col diretti degustazioni in piazza con i prodotti locali. All'Aquila dal 28 al 30 giugno, street food, fattorie didattiche di spalla. L'Aquila di Cosimo non molla altra sfida a Biondi. Le ragioni del mio defenestramento, voler gestire i 700 mila euro dei fondi per il decennale del sisma. L'ex assessore comunale Sabrina di Cosimo sfida ancora il sindaco Pierluigi Biondi. E poi ad Avezzano, Panei, al veleno, inadeguata la segreteria del PD. Non c'è posto nell'esecutivo del circolo PD di Avezzano per Lorenza Panei, ex segretario per le rappresentanti delle donne democratiche. Lei lancia accuse contro un cambio di rotta sbandierato dal segretario Ceglie, ma che non c'è stato. Poi ancora la vicenda Gasdotto, Snamma, Sulmona, si compatta il fronte del no. E poi ancora ad Avezzano le parole del comandante dei vigili urbani di Avezzano, Montanari, pagare le multe del T-RED. Appunto c'è la replica del comandante della polizia locale, replica alle accuse sul semaforo. E ora l'edizione terramana del centro, il titolo d'apertura, ragazzo di 13 anni disperso in mare, Giulianova, zero speranze di salvarlo e a Silvi, annega un anziano. E poi lo sport a centropagina, Iaconi, sarà un grande terramo ma servirà tempo. Ieri è stato presentato il nuovo DG Biancorosso. E poi di nuovo la cronaca di spalla a Tortoreto, sequestrati 50 kg di pesce in uno chalet, circa 50 kg di prodotti ittici conservati in maniera non corretta, sono stati sequestrati nella cucina di uno stabilimento sul litorale nord di Tortoreto con multa di 1.500 euro al titolare. E poi ancora la cronaca, ma questa volta a Castelnuovo, Vomano, fanno il colpo da 500.000 euro al Vinci Casa. Beati loro, aggiungiamo noi, marito e moglie di Pineto di passaggio a Castelnuovo, Vomano, spendono 3 euro per una schedina del gioco a premi e centrano tutti i numeri estratti. Potranno acquistare uno o più immobili sul territorio nazionale. E poi Teramo, il conservatorio, non abbiamo guai finanziari. Ancora la cronaca botte in tribuna. D'aspo a due papà si sono azzuffati con altri genitori durante un Teramo casertana under 15. E ora la prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo. Ragazzino disperso tra i cavalloni, si è allontanato sul materassino con un amico e non è più rientrato. Il costume ritrovato al porto a Giulianova. E poi sotto la testata Teramo Calcio è partita l'era Iaconi, convinto dal progetto. A Silvi, corpo senza vita trovato in mare. A Pescara, aggredita coppia gay di turisti. E poi scendendo a centro pagina, chiaramente la fotonotizia è legata al titolo d'apertura, leggendo il titolo tragedia in spiaggia. Sospese le ricerche di guardia costiera e sommozzatori. Sospese ieri sera, ma vi diciamo che le ricerche sono riprese questa mattina, circa un'ora fa. Chiaramente poi vi terremo aggiornati nel corso delle prossime edizioni del nostro TG6. E poi ancora una serie di richiami intorno alla fotonotizia. Ricostruzione dagli sfollati Teramani, sette richieste al Premier Conte. Gli architetti, serve una proroga per le pratiche B. E poi ancora, sempre per la cronaca, DASPO per due genitori Huligans alla partita dei figli. A Colonnella, chiesto un tavolo regionale per la ATR. Poi a piedi pagina, a Roseto degli Abruzzi, arrivano le colonnine elettriche. E poi in Mozambico, emergenza ciclone Idai, un Teramano a capo. dell'ospedale da campo. E poi la prima pagina del messaggero Abruzzo, l'apertura, sfruttamento nei cantieri. L'Aquila, 17 imprenditori a giudizio per gli operai impiegati nella ricostruzione. L'accusa hanno approfittato del loro stato di necessità, stipendi bassi e niente ferie. E poi in odi dell'economia cresce di nuovo la cassa integrazione. Ovviamente nella nostra regione la cronaca a Lanciano, rapina in Villa Martelli. Martelli non vuole vedere i banditi, niente parte civile. E poi a Pescara, strisce pedonali scomparse sulle riviere. Allarme, pedoni. E poi per lo sport, calcio di serie B, Delfino, primo rinforzo dal Parma. Arriva Galano, intesa tra Sebastiani e DS Faggiano. In Emilia due giovani, Marafini e Chirilov. E nei prossimi giorni il presidente incontrerà la Juventus per Cerri e Delisalde. E poi di spalla, leggiamo Ripari di Giobbe, la caletta delle meraviglie. Torna accessibile, realizzata una lunga scalinata che porta alla Baia nell'oasi naturale. La fotonotizia a Giulianova Materassino si rovescia. disperso 14enne, era in mare con un amico che si è salvato. E poi sempre in taglio medio, gay aggrediti si setacciano le telecamere. La Digo si indaga sul pestaggio omofobo, episodio analogo a quelli del maggio 2017. Poi a piedi pagina, Sanità, ASL, la Regione, Silura, Mancini. Possiamo lasciare i quotidiani locali? Andiamo ora su quelli nazionali dove chiaramente tiene banco l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali. L'assegnazione per l'Italia, Milano e Cortina, Olimpiadi Invernali del 2026. Andiamo subito sul Corriere della Sera. Ecco qui, è proprio questo il titolo d'apertura. La vittoria di Milano e Cortina, festa per l'Olimpiadi Invernali del 2026. Conte sarà memorabile, Sala e Zaia subito al lavoro. L'Italia batte la Svezia per 47 voti a 34. L'applauso di Mattarella, Salvini, Punzecchi e 5 Stelle. Uno sbaglio aver rinunciato. Sotto la testata la tragedia all'università. Morto al rave, sapienza sotto sciocco, il party abusivo e le tante omissioni. Poi scendiamo, chiaramente la fotonotizia è dedicata proprio a un momento dell'esultanza della delegazione italiana. Vediamo tra gli altri il presidente del CONI Malagò. E poi scendendo nella pagina per la politica, Di Maio, chi vuole la crisi ci porta al governo tecnico, il vicepremier 5 Stelle, i sindacati. Lì vedrò quando servirà. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica, anche in questo caso grande spazio all'assegnazione delle Olimpiadi Invernali all'Italia. Miracolo a Milano e a Cortina. L'Italia ottiene l'Olimpiade Invernale del 2026 battendo la Svezia. Conte ha vinto un Paese unito. E poi esulta il sindaco di Milano, Sala. Faremo tutto per bene, senza perdere tempo. Faceggiano Lega e PD, polemica sul no del Movimento 5 Stelle. Poi una serie di commenti a questa notizia come è strano lo sci ambrosiano e poi quanto diventa lontana Roma. Di spalla le parole del capo dello Stato Mattarella. Chi finge di non vedere aiuta l'illegalità. Il riferimento, il ricordo all'avvocato Giorgio Ambrosoli, il commissario liquidatore coinvolto appunto nel crack di Banca Privata Italiana. E poi l'intervista alla capitana Carola della Sea Watch. Sfido il divieto ed entro in porto. Andiamo avanti e siamo sulla prima del messaggero. Ecco qui giochi di squadra. L'Italia vince la sfida delle Olimpiade Invernale del 2026. L'applauso di Mattarella. La gioia del comitato Salvini. Bacchetta in o del Movimento 5 Stelle. Il tweet di Raggi diventa un caso. Poi Milano e Cortina battono i rivali di Stoccolma con 47 voti contro 34. Sempre lo sport sotto la testata. Mondiali femminili. Italia con la Cina per ballare ancora. L'Under 21 è fuori. E poi Roma. Ecco Fonseca, il tecnico a Trigoria. Voglio rendere i tifosi orgogliosi della squadra. Andiamo di spalla con le sette piaghe capitali. Municipalizzate. Profondo Rosso pagano i Romani. Rifiuti e trasporti allo sbando. Con perdite di gestione enormi. E poi a centropagina. Ex Ilva. Il Beto Di Maio. A rischio l'acciaio italiano. Il ministro da settembre. Stop all'immunità per Mittal. Andiamo avanti con il mattino. Campagna. Industrie in fuga. Nel casertano l'americana Jabil annuncia 350 licenziamenti. Colpa della concorrenza feroce. Whirlpool oggi il vertice. I lavoratori prodotti spediti in Polonia. L'azienda se ne è già andata. E poi sotto la testata De Giovanni. Il nuovo libro. L'addio di Ricciardi. Un giallo nel giallo. Forse tornerà. E poi l'orrore di Nocera. L'autopsia shock. La piccola Yolanda. Morta strangolata. Andiamo sul fatto quotidiano. Occhio al portafogli. Battuta Stoccolma. Ma sui giochi 2026. Spreche in vista. Olimpiadi. Milano e Cortina vincono. Ma perde l'Italia. Ogni edizione da 50 anni. Finisce con megabuchi per città e paesi organizzatori. E maxi aumenti di tasse. Senza dimenticare le retate di Expo 2015. E 15. Avanti ancora. Siamo sulla prima del manifesto che apre così. Sblocca Cantieri. Messa all'angolo nel grande gioco delle nomine di Bruxelles. Sotto la spada di Damocle della procedura Well. L'Italia si consola strappando alla Svezia le olimpiadi invernali del 2026. Da Sala a Zaia il Lombardo Veneto festeggia lo sblocca Cantieri tra Milano e Cortina. E poi ancora sotto la testata il piatto piange. Lega e 5 stelle in tilt. Salario minimo e flat taxi. Gialoverdi litigano sulle coperture. L'apertura della stampa. Ma ovviamente l'argomento è sempre il medesimo. Olimpiadi. C'è un'Italia che vince. Milano e Cortina battono. Stoccolma 47 a 34. Lega e PD un successo. E i 5 stelle finiscono isolati. Assegnati i giochi invernali. 2026. Giorgetti. Missione compiuta. Il paese che fa le cose sul serio. Andiamo poi in basso. Dopo le polemiche puntava agli affari europei. Movimento 5 stelle contro Di Battista. Attacca perché voleva un ministero. Ora la prima pagina del tempo. I fatti romani in piena evidenza. Rifiuti e caos. Serve un commissario. Viaggio filmato nella città. Lama da giorni non ritira la spazzatura. C'è il rischio epidemia. Tocca al governo intervenire con poteri speciali come quelli usati a Napoli nella crisi del 2008. E poi il tempo di Oscio con questa espressione particolare del sindaco Raggi. Le olimpiedi invernali vanno a Milano e Cortina. La Raggi si congratola pure. Pioggia di sfottò. Di spalla. Guerra di nervi tra 5 stelle e Lega. Il governo gioca a nascondino con i miliardi. La prima pagina della verità che apre così. Tutti sapevano. Nessuno ha fatto nulla. Università svenduta ai centri sociali. Scarica a barile dopo la morte di un giovane al reiparte illegale della Sapienza. La questura segnalazioni senza richiesta esplicita di intervento. Il prorettore. Non sono occupazioni. E poi lo sgombero. Non è l'approccio migliore. Noi siamo inclusivi. La verità è che in ossequio alla onda rossa si è tollerato il commercio di droga e alcol nell'Ateneo. E poi la fotonotizia con in primo piano il sindaco di Milano Sala e il governatore del Veneto Zaia. Vendetta. La Svezia è battuta. Olimpiadi a Milano Cortina. E poi ancora i giudici europei a bordo della Sea Watch coinvolti dall'ONG oggi possono costringere l'Italia a far sbarcare i migranti. Salvini resiste. Andiamo sulla prima del secolo punto it che apre così. Ultimo giorno. Salvini ha tempo fino al 20 luglio per votare a settembre. Poi rischia di perdere tutto. I tre richiami a fondopagina. Olimpiadi invernali 2026 vince Milano Cortina. Minibot. Caos nella Lega. Fratelli d'Italia. Governo confuso. E poi il vescovo vuole i migranti. Salvini pensi agli italiani. Avanti ancora. Siamo sul sole 24 ore. Ecco l'apertura. Olimpiadi vince lo sprint dell'Italia. Giochi invernali 2026. Il CIO sceglie Milano Cortina. Battuta Stoccolma 47-34. Conte vittoria del paese. L'applauso di Mattarella. Sala rivincita dopo Lema. Zaia. Noi siamo già partiti. Andiamo a centro pagina. Con la vicenda Ilva. Di Maio insiste. L'immunità penale non c'è più. Il piano deve andare avanti. L'impianto non rischia la chiusura. Se saranno completate le bonifiche. Pressing sull'azienda. Spieghino perché pensano di mettere 1.300 in cassa integrazione straordinaria. Poi la fotonotizia a centro pagina. Sicurità gli aivri. Maxi Polo della sicurezza. Nasce un colosso con ricavi da 650 milioni e 15 mila addetti. E poi ancora a centro pagina. All'Italia. Lufthansa torna in gara. Incontri per rilanciare il piano. Chiudiamo ora con la prima pagina dell'avvenire. Che apre così. Futuro insieme. Il premier Conte scrive ad avvenire per sostenere i Saturdays for Future sulla sostenibilità a tratto tra cittadini e istituzioni per un sistema più equo. E poi spazio anche in questo caso all'assegnazione delle Olimpiadi Invernali all'Italia con la fotonotizia. Milano e Cortina incoronate con i cinque cerchi olimpici. Lasciamo i quotidiani nazionali. Torniamo a quelli locali. Siamo a pagina 2 del centro con l'argomento Ape Sociale che era stato già introdotto in prima pagina. Ecco qui Ape Sociale domande entro il 15 di luglio. Nuova scadenza per chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre. Ma bisogna frettarsi per evitare la fine dei fondi. E poi in taglio medio quota 100 in regione oltre 4.000 richieste. I dati IMSS aggiornati al 20 giugno. In Italia le domande per lasciare in anticipo il lavoro sono 150.000. Andiamo poi a piedi pagina. Angelucci, nuovo segretario generale per la FITCISL Abruzzo Molise. E poi Cogliatti, Movimento Sud protagonista. Macro Regioni, una riforma strategica. Andiamo alla pagina successiva. Pagina 3, autismo. La regione dice sì al nuovo piano operativo. In tre anni saranno autorizzate 40 strutture ambulatoriali e domiciliari al lavoro. Equip di specialisti che si faranno carico delle esigenze dei pazienti. E poi in basso, nelle dinamiche che attengono in particolare l'ASL di Pescara, Mancini. Il contratto è risolto. La giunta regionale avvia il procedimento di decadenza del manager. E poi altri provvedimenti in giunta regionale. Regione forestale uniti contro gli incendi boschivi. Andiamo avanti. Siamo alla pagina Abruzzo con il caso Arap. Come leggiamo ci sono veleni sullo spoil system. Marsiglio a Leombroni. Prima il CDA, poi ti dimetti. Il governatore invita il Consiglio di amministrazione a esprimersi sul bilancio. Il direttore dell'ente SUTTI attacca il dimissionario. Affermazioni gravi e infondate. Andiamo avanti e siamo sulla pagina di Pescara con l'argomento più caldo dell'estate. Se così si può dire. Ovvero la composizione della nuova giunta comunale. Targata Carlo Masci. Le spine dei partiti. Allora leggiamo sul centro. Nuova giunta. La Lega non molla. Masci parto con la squadra a sei. Il vice di Salvini detta le condizioni. L'accordo è lontano sugli assessori. Oggi prime nomine del sindaco. Fratelli d'Italia fa un passo indietro. Indica il nome di una donna. Per Forza Italia entra anche seccia. E poi il Movimento 5 Stelle pida l'attacco. Il sindaco è senza strategia. C'è solo fame di poltrone. Allora noi ieri abbiamo ascoltato uno degli assessori che è stato già scelto. Ha già firmato il decreto di accettazione. Si tratta dell'ex sindaco Luigi Albore Mascia. Non ci sono ancora le deleghe. La giunta è ancora in fase di composizione. Quindi anche l'assegnazione delle deleghe. Ma intanto ascoltiamo le parole di Luigi Albore Mascia. Neo assessore della giunta comunale di Pescara. Bisogna ancora attendere per la giunta di Carlo Masci. Del nuovo sindaco di Pescara. Però ci sono già due assessori. Isabella Del Trecco, esterna di Forza Italia. E Luigi Albore Mascia, ex sindaco di Pescara. Nuovo assessore. Non si sa ancora cosa, Mascia. Una nomina parziale fatta nelle ultime ore. Il sindaco ha voluto intanto sistemare, credo, la quota di Forza Italia. Salvo integrazioni che possono essere sempre possibili. Scegliendo un criterio intanto, quello di indicare un uomo e una donna della lista di Forza Italia. Penso che però nelle prossime ore questa situazione possa essere definita. Possiamo anche trovare ulteriori colleghi che ci affiancheranno nel lavoro difficile ma appassionante di attenzione quotidiana alla città. Il riconoscimento di un grande attaccamento alla città, che ha avuto poi un riscontro bellissimo dal punto di vista elettorale, di impegno futuro, di esperienza e credo anche di rivalutazione complessiva dell'operato come sindaco. Io mi sono sempre messo a disposizione, fin dal primo giorno di campagna elettorale, del sindaco Masci. L'ho fatto sempre con lo stesso spirito che è quello di metterci al servizio della città per migliorare la nostra Pescara, che amiamo profondamente. Mi pare che sia stato un po' il leitmotiv della campagna elettorale del sindaco Masci, ma in realtà è un denominatore comune di tutta l'amministrazione, di chiunque comunque si appresta a vivere la vicenda amministrativa di vertice e di responsabilità. Tornando alla nuova giunta, il tempo, è il caso di dire, sta per scadere? Il tempo sta per scadere. Il tempo scade il giorno prima del Consiglio Comunale. Mi pare di capire che ci sono ancora alcuni giorni per la celebrazione della prima assemblea, di quello che è un po' il primo giorno di scuola per i consiglieri, anche per gli assessori, anche per il sindaco, che è un momento solenne del Consiglio Comunale, quindi c'è ancora tempo. Però la città si aspetta da qui a qualche ora che ci sia finalmente un assetto definitivo della squadra che avrà la responsabilità di guidare Pescara nei prossimi anni. E penso che i nodi verranno sciolti con la buona volontà di tutti, con ragionevolezza, con esperienza, perché ci sono tanti uomini e tante donne che hanno esperienza da vendere, ce ne sono altri che non hanno esperienza ma che hanno grande entusiasmo e grande voglia di lavorare. Lasciamo la politica, torniamo alla cronaca con le pagine del centro, travolto dal furgone, muore dopo quattro giorni, non ce l'ha fatta, Tigliotini da tutti conosciuto come Fulvio. I familiari danno il via libera alla donazione degli organi. L'incidente appunto era avvenuto in Miale d'Annunzio. Andiamo avanti, sempre per la cronaca. Salvato un bambino in arresto cardiaco, paura in uno stabilimento sulla Rivera Sud, il piccolo di nove anni, soccorso da un medico e un bagnino, è ricoverato in pediatria. E poi ancora la vicenda che ha tenuto banco in questi mesi a Caramanico con la scomparsa di Carlo Fattiboni. Ebbene, Fattiboni, caso risolto, c'è il corpo, la figlia, grazie a chi ci ha aiutato. La famiglia resta in attesa del riconoscimento dei resti attraverso gli oggetti personali del congiunto ed esprime gratitudine ai soccorritori, forze dell'ordine e istituzioni pescaresi al turista romano. Andiamo avanti, torniamo a Pescara. Partiti i lavori in via del circuito, il traffico in tilt in tutta la città. Da ieri si circola Senso Unico su tutta la strada, registrati disagi in centro e nella zona dell'ospedale. La situazione peggiore in via Ferrari con lunghe code di auto, vigili con l'autovelox in via Gran Sasso. E poi ancora le pagine di Montesilvano con la nuova giunta al lavoro, rottamazione cartelle, via libera al regolamento. Deliberato l'atto che consente ai cittadini di saldare le ingiunzioni e mettersi in regola, il sindaco assegna le deleghe a sei consiglieri comunali di maggioranza. Avanti ancora, siamo a Città Sant'Angelo, violata la posta certificata del comune angolano ad accorgersi della violazione della casella Pecchi, il responsabile informatico. Il sindaco Perazzetti, nessun dato presente nel nostro server, è stato rubato. E poi a Penne le parole dell'assessore Gilberto Petrucci, ecco tutti i problemi dell'ospedale di Penne. Andiamo avanti e siamo a Francavilla al Mare, colonie per disabili, terme e taxi sociale. Ecco i servizi estivi. Il vice sindaco Francesca Buttari presenta l'elenco delle offerte comunali per le famiglie disagiate. Andiamo avanti e siamo in Val Pescara, assaltavano le aziende, quattro arresti. I carabinieri scoprono i responsabili di una serie di furti in varie ditte della Val Pescara e in una discoteca all'Aquila. E poi ancora sulla stessa vicenda, indagini nate da un incidente dopo il colpo, le intercettazioni rivelano le preoccupazioni della banda per l'autopresa a noleggio con il satellitare. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Chieti. Così Michela ha provato a difendersi. L'anziana di 87 anni, sopraffatta dai colpi inferti da Vito Papa. I carabinieri sequestrano la cartella clinica dell'assassino. E poi ancora di spalla la difesa. L'ex finanziere non sa ancora di aver ammazzato l'anziana. In basso, le sorelle sotto shock. Com'è possibile? I parenti della vittima non ci rassegniamo. Vogliamo sapere cosa è accaduto in quella notte maledetta. Proseguiamo. Siamo sempre con la cronaca. Si schianta con lo scooter ed è gravissimo. Un incidente a Chieti sulla Tiburtina. Un uomo di 41 anni, lotta per la vita in rianimazione. Lo scontro con una Opel Corsa dopo un sorpasso di fronte allo stadio. E poi ancora, Chieti Scalo in lutto per Elvidio, era un uomo di grandi qualità. Il dolore per la morte del 47enne, padre di tre figli. Andiamo avanti. Siamo alla vicenda dell'assalto alla villa dei coniugi Martelli a Lanciano. Botte e sevizie ai coniugi. Sconto di pena ai banditi. Accolta la richiesta di rito abbreviato per i sette romeni accusati della rapina. Il 30 settembre, prima sentenza sulla notte di violenza che ha sconvolto l'Italia. Poi leggiamo in basso. I martelli decidono di non chiedere i danni. Le vittime restano a casa e non partecipano all'udienza. Non vogliamo vederli. Meglio dimenticare. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Teramo con quello che viene definito giustamente un unedì nero sulla costa. Doppia tragedia. Ragazzo disperso in mare salvo l'amico. A Giulianova si avventurano su un materassino che si ribalta. 13enne marocchino che vive a Teramo non riemerge. E poi a Silvi, anziano a Nega, non ha ancora un nome, allarme dei bagnanti che lo vedono galleggiare. Potrebbe essere stato trascinato dalla corrente. Proseguiamo. Sempre la cronaca. Calcio e violenza. Zuffa in tribuna. Daspo a due genitori. Il questore firma i divieti dopo una partita under 15 tra Teramo e Casertana. Interdizione anche a sei tifosi del Giulianova. Puniti due campani che aggredirono papà Teramani che avevano sfottuto alcuni giocatori di colore. Gli ultragiuliesi invece assaltarono il pullman di Montevarchi prima di una gara di Coppa Italia di Serie D. E poi ancora il Braga. Nessun problema economico. I vertici smentiscono l'allarme dell'associazione che sostiene l'istituto e annunciano azioni contro gli enti che non pagano. E poi leggiamo qui in alto. Colpo da 500 mila euro al Vinci Casa. A Castelnuovo i fortunati sono marito e moglie di Pineto. Potranno comprare una abitazione. Avanti ancora con l'omicidio di Silvi. I medici nessuna percossa del marito alla moglie. Secondo la donna il figlio sarebbe intervenuto per difenderla dall'aggressione. Ma la visita eseguita subito dopo il tragico fatto non ha evidenziato lividi o traumi. Proseguiamo e siamo ora sulle pagine dell'Aquila. Emergenza sicurezza. Il giorno dopo ronde di vigili in centro fino alle 24. Il comune corre ai ripari dopo due episodi di violenza e vandalismo. Rispunta il progetto della videosorveglianza. Risse danneggiamenti schiamazzi fino a tarda ora in strade e piazze centralissime. Residenti e commercianti invocano controlli serrati per garantire la vivibilità. Allo studio un piano di pattugliamento per coprire le varie aree di intervento e le fasce orarie a rischio. Soprattutto tra il giovedì e la domenica quando l'affluenza è maggiore. Poi in basso di Cosimo altra sfida al sindaco Biondi. Conferenza stampa bis dell'ex assessore. Io estromessa per poter gestire i fondi del decennale. Avanti ancora con il caso Tired ad Avezzano. Montanari vanno pagate le multe inflitte dal Tired. Il comandante della polizia locale rompe il silenzio. Linea bianca ben tracciata. Il Consiglio non può indurci all'annullamento tombale dei provvedimenti. Andiamo a chiudere con quest'ultima pagina. Prima di andare in pubblicità. Siamo a San Benedetto dei Marsi. Morto nel fiume. Strane tracce sull'Audi. Dorazio salito sull'auto prima di sparire. L'11 luglio. Test dei carabinieri del RIS. Possibile coinvolgimento di altre persone. Ci fermiamo qui. Finisce la prima parte di Mattino 6. Non andate via perché dopo le previsioni del tempo e la pubblicità torniamo per sfogliare le pagine di Messaggero. La città e vedere altri servizi. A tra poco. Di nuovo buongiorno. Seconda parte di Mattino 6. che riprende con il messaggero Abruzzo. Spoil system. La regione a Mancini. Avviso di sfratto. Il manager di Pescara ha riportato uno giudizio insufficiente. Fagnano verso la promozione al Dipartimento della Sanità. Si procede al cambio dei vertici delle quattro aziende pubbliche per la salute. Due posti vacanti. Poi in basso allarme cassa integrazione persi 9 milioni di euro. Da inizio anno all'Aquila e Pescara ore in calo ma un netto aumento. Si registra a Chieti e Teramo. Come se in Abruzzo siano assenti dal loro posto 2630 lavoratori. Un segnale preoccupante. Andiamo ora sulle pagine di Pescara. Pagine di cronaca sul messaggero Abruzzo. Strisce pedonali invisibili sulle riviere. L'aumento del traffico giornaliero verso gli stabilimenti balneari. L'incidente mortale del 5 giugno svegliano un quadro allarmante. Segnanetica sbiadita o consumata del tutto. Il lungomare a nord e le principali arterie presentano i maggiori pericoli. Un vero bollettino di guerra per gli utenti deboli della strada. Ieri l'ennesima tragedia. Situazione livellamente migliore in centro e a Portanova. La corsa contro il tempo delle nuove amministrazioni. Poi morto l'uomo investito in via d'annunzio. Strade di sangue. Attilottini ha donato gli organi. Poi ancora in basso leggiamo anche Seccia. La firma da assessore. La Lega non cede sulle quote rosa. Carlo Masci ingessato dai veti incrociati degli alleati. L'Udici vuole pignoli. Il sindaco senza un piano tuona la sclocco ex competitor con Carlo Masci. Ora consigliere comunale. Andiamo avanti. Torniamo alla cronaca coppia gay pestata. L'aggressore nel mirino della Digos. Passate al setaccio le telecamere della zona di Via Umbria per dare un volto all'uomo che ha colpito i due ragazzi brasiliani. Nessun dubbio sulla natura omofoba dell'episodio. Solidarietà da Masci, da partiti e movimenti. Accuse all'ultra destra. Poi in basso camera di commercio oggi la nomina di Strever. L'imprenditore di San Salvo guiderà l'ente unico Chi di Pescara. Sogno anche una provincia unica. Poi Federico Faggin la favola dello Steve Jobs italiano. L'inventore del microprocessore. Presente il suo libro a Firenze. Ospite del pescarese Alfonso De Virgilis. Poi ancora, sempre per la cronaca, falsi gadget di Ligabù e denunciati quattro ambulanti. E poi malore in acqua, bimbo salvato dal bagnino. Eccolo qui, il bagnino appunto si chiama Salvatore Galdo, come leggiamo dalla didascalia. Proseguiamo, sempre la cronaca. Scacco alla banda dei furti nei cantieri. Quattro persone arrestate, misure cautelari lievi per altre tre. Bottino da 100 mila euro, dieci colpi contestati dai carabinieri. Sono tutti parenti e alcuni già noti per precedenti specifici sigilli all'azienda di Montesilvano utilizzata come deposito. Un anno di indagini della compagnia di popoli. Tutto parte dal controllo casuale di un'auto presa a noleggio. E poi ancora, casa e auto sotto sequestro nel mirino i patrimoni illegali. Allora, andiamo a vedere il servizio realizzato ieri dal Tg6 su questa vicenda. Compivano furti in aziende della Val Pescara dopo aver fatto sopralluoghi utilizzando auto presi a noleggio. Nella rete dei carabinieri della compagnia di popoli sono finite sette persone. Recuperato nel corso delle indagini un quintale di rame e una vettura utilizzata dalla gang. Il servizio criminale in buona sostanza dopo aver fatto innanzitutto la caratteristica fondamentale che utilizzava delle auto noleggiate. Quindi tramite queste auto noleggiate faceva dei sopralluoghi e poi perpetuava una priorità di furti all'indirizzo delle medie sempre delle stesse imprese. Questi furti venivano realizzati in più giorni e realizzati con più spole. Normalmente la spola che facevano era nell'arco della stessa giornata, quindi abbiamo un singolo furto frazionato in più carichi. Avveniva dall'obiettivo, poi la base logistica, che come abbiamo visto aveva una a Torre dei Passi e una a Popoli. Poi venivano a condattare la rifurtiva al centro di ricettazione che era a Montesilvalo. La metodologia di frazionamento e di parcializzazione della rifurtiva serviva sia a non dare nell'occhio sia a assicurare un provento a coloro i quali non fossero stati confermati dalle forze dell'ordine. L'operazione ha preso il via dal 23 maggio del 2018, nell'anno scorso, quando è stata rinvenuta una Fiat Multipla con a bordo dell'area furtiva del rame. E nei pressi del quale si aggirava un soggetto che era gravato da numerosi precedenti specifici ferrati contro il patrimonio. E subito dopo, dall'analisi dei tracciamenti GPS da bordo del veicolo e dallo studio delle celle e infine delle attività di intercettazione telefoniche e ambientali, si è definito tutti gli obiettivi e i percorsi che sono stati fatti dai singoli componenti dell'associazione criminale. Loro erano, se possiamo dire, ben consapevoli e loro stessi parlano nell'ambito delle intercettazioni, nei stracci di intercettazione, parlano del loro ruolo. Faccio ad esempio riferimento a un soggetto di Torre dei Passi dove era più volte fa riferimento al suo ruolo di mediatore, di un anello di congiunzione tra il ricettatore e i soggetti sodali, gli accogliti che comunque commettevano i furti in senso stretto. Siamo sulle pagine dell'Aquila del messaggero Abruzzo, operai sfruttati nei cantieri, imprenditori sotto processo. Carlo e Domenico Taddei sono tra i 17 che a ottobre affronteranno il giudizio. Le accuse, violazione degli orari di lavoro, scarsa sicurezza e omessi versamenti. Secondo gli inquirenti sarebbe stata reperita mano d'opera a basso costo per la ricostruzione. Poi ancora di spalla Greenway percorsi per promuovere benessere e salute. In basso lavoratori GPI prosegue l'agitazione, la ditta gestisce il centro unico per notazioni dell'ospedale. Avanti sempre all'Aquila, Gran Sasso, strisce blu e nuovi servizi. A giorni il collaudo delle fontari per trasportare biciclette dopo il rifugio Monte Cristo, restyling anche per l'hotel Cristallo. L'amministratore del CTGS Pignatelli annuncia l'istituzione dei parcheggi a pagamento per evitare la sosta selvaggia. Andiamo avanti, siamo ad Avezzano dal Crab al Crua, ma la musica è la stessa. La regione Abruzzo ha stanziato 200 mila euro per il centro di ricerca, iniziativa buona ma non sufficiente. Sempre i soliti problemi, finanziamenti occasionali sempre utili, ma il discorso dovrebbe essere ampliato. E ora le pagine di Chieti, del messaggero Abruzzo, Soprintendenza e Marrucino. Nasce un patto per fare cultura. Il sottosegretario Vacca, importante lavorare su progetti buoni che valorizzino il territorio. Mencarelli, dobbiamo trovare le intese. Sicari, svilupperemo più partenariati possibili. Il gemellaggio durerà tre anni in programma. Seminari, convegni e mostre. E poi la cronaca di spalla, moto contro un automobile. Camionista gravissimo, è accaduto nella fase di sorpasso sulla Tiburtina. Impatto molto violento. Invece, per quanto riguarda la situazione, dal punto di vista dell'amministrazione, sappiamo come il sindaco di primio sia dimissionario. Frattura nella maggioranza. Si schieriscono le nubi. Allora, nei prossimi giorni potrebbero rientrare le dimissioni del primo cittadino. Andiamo avanti, sempre con la cronaca, ma ci spostiamo in provincia di Chieti. Rapina in villa. Le bestie chiedono lo sconto di pena. Sequestro e botte ai coniugi martelli al via il processo alla banda di sette romeni. In aula non c'è Martin, il presunto capo illegale. Ruoli da definire, troppa pressione. I difensori in primo grado ci vuole una pena esemplare. Poi in appello le cose cambiano. Allora, vediamo il servizio. E' iniziato a Lanciano il processo con il rito abbreviato ai rumeni imputati per la rapina violenta e coniugi martelli, avvenuta il 23 settembre scorso in città. Palazzo di giustizia blindato, porte chiuse per stampa e pubblico. Il processo si celebra in Camera di Consiglio davanti al GUP Giovanni Nappi, che ha fissato al 30 settembre prossimo l'inizio della discussione con possibilità dell'emissione della sentenza. Sei romeni sono accusati dal procuratore capo Mirvana Di Serio di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persone, porto abusivo di arma. Un settimo romeno è esclusivamente accusato di favoreggiamento, ma non ha preso parte alla rapina. Presenti in aula quattro imputati su sette, Alexandru Colteanu, l'unico che non ha reso confessione, i fratelli Ione e Costantin Turdica e Gheorghe Bogdan Ghiviziu, l'autista del gruppo. Assenti tre imputati, Adrian Marius Martin, ritenuto dagli inquirenti il capobanda, Aurel Rousset, arrestato in città assieme ai cugini Turdica, e Gheorghe Traian Iacota, che risponde solo di favoreggiamento per l'attentata fuga di Ghiviziu. Nel corso dell'udienza, durata circa mezz'ora, è stata escursa come testa la compagna di Iacota e madre di Ghiviziu, che ha ribadito le stranità del compagno alla rapina. Per l'uomo il giudice ha ammesso il rito abbreviato condizionato, spiega il difensore Vincenzo Mencuccini. Lo stesso dunque non sapeva nulla, questo è già stato chiarito. Il testo oggi ha chiarito quelli che erano i rapporti, i rapporti tra Nez e Noiacota, e quindi sul fatto che comunque sia non c'erano stati rapporti precedenti, colloqui precedenti con il Ghiviziu, e che quindi Noiacota nulla poteva sapere di quello che era successo. Ghiviziu è difeso da Paolo Sisti, mentre Roberto Crognale è il legale difensore dei fratelli Turlica. Stamattina è iniziato il processo, il giudice ha ammesso i riti abbreviati che sono stati chiesti da tutti gli imputati. Io non voglio entrare nel merito adesso di quella che è la posizione processuale di ognuno, non voglio prevaricare le difese degli altri colleghi, però ritengo che l'attività di indagine sia stata fatta. Adesso manca l'attività processuale, che non credo che si possa dare per scontato. L'avvocato Andrea D'Alessandro difende Martin. La questione di Marius è tutta da definire ancora, e da valutare la sua effettiva colpevolezza. Dicono che sia stato il capo, ma questa difesa sicuramente entra ad intercettare questa accusa per smontarla piano piano, pezzo a pezzo. I coniugi martelli non erano presenti in aula, hanno deciso di non costituirsi parte civile. Il dottor Carlo Martelli, medico in pensione, durante la violenta rapina venne brutalmente percosso, mentre alla moglie, Niva Bazzan, venne mutilato l'orecchio destro. Pagine di teramo del messaggero Abruzzo. L'università diventa green, auto ecologiche agli studenti. Il rettore Mastrocola lancia la svolta verde, l'albero del sole per ricaricare pc e telefoni. Le vetture a impatto zero serviranno per poter raggiungere le diverse sedi. L'Ateneo funzionerà almeno in parte con energie rinnovabili per non danneggiare l'ambiente. Poi di spalla, Terna spiega il progetto della nuova rete elettrica. Andiamo avanti, siamo a Giulianova, Materassino si rovescia, 14enne disperso. Due giovani marocchini erano usciti con un canottino, trascinati a largo dalla forte corrente, travolti da una onda. L'amico riesce a salvarsi a nuoto. Mohamed si è aggrappato, poi non l'ho visto più riemergere. La madre colta da malore. Poi le ricerche dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto sono andate avanti fino a tardasera. Come detto, sono riprese circa un'ora e mezza fa. Poi ancora, no del Ministero. sfuma il commissariato a Roseto. La sede della Polizia con i suoi 30 agenti resta ad Atri. La struttura sarà pronta entro giugno 2020. Lasciamo il messaggero Abruzzo. Andiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Terramo. Andiamo direttamente a pagina 5. Ricostruzione dagli sfollati. Sette richieste al Premier Conte. Lo sportello sociale USB svela i contenuti della lettera consegnata dal Sindaco al Presidente del Consiglio. Gli sfollati puntano su un dialogo costante tra territori colpiti dal sisma e governo in modo da correggere in corsa i provvedimenti. Ecco qui le richieste al Premier. Un Consiglio dei Ministri a Terramo. Assunzioni tecnici per l'Ufficio speciale per la ricostruzione. Case Ater antisismiche. Più lavoro e prevenzione. Fondi per atenei del cratere. Poi tavolo istituzionale. E incentivi alle imprese. Andiamo ora a pagina 6. Corona 400 mila euro. Ballerini, il consigliere di oltre, chiede la sistemazione di via Biondi dopo l'apertura della rotatoria ipogea di Villa Pavone. Pagina 7. Dopo lo statuto, il regolamento. Ecco le principali novità introdotte in commissione prima del voto di giovedì in Consiglio. E poi pagina 8. Un terramano a capo dell'emergenza Idai, Pierluigi De Ascentis, della Croce Rossa in Mozambico, gestisce l'ospedale da campo dopo il devastante ciclone. Poi finalmente i lavori alla zona PEP, sempre a Teramo. La giunta approva il progetto di riqualificazione dell'area nei pressi della scuola Serroni. E poi la cronaca, sempre da Teramo. D'aspo di un anno per due padri hooligans. Provvedimento anche a sei tifosi del Real Giulianova che lo scorso 30 gennaio danneggiarono un autobus. Le sanzioni sono arrivate per le intemperanze sugli spalti nel corso della partita del campionato Under 15 tra le squadre del Teramo e della Casertana. Invece per quanto riguarda gli ultra giallorossi, il questore ha emesso un provvedimento che varia dai 2 ai 5 anni. Proseguiamo. Siamo a Colonnella. In Val Vibrata ha chiesto un tavolo urgente per la TR. Il consigliere regionale Dino Pepe chiama in causa l'assessore Fioretti. Le preoccupazioni riguardano le prospettive future dell'azienda, sia quelle produttive che occupazionali. Poi ancora a Giulianova, ragazzo di 15 anni disperso tra i cavalloni, si è allontanato su un materassino con un amico che non è più rientrato. Il costume è stato ritrovato al porto. Le ricerche portate avanti da Capitineria e Vigili del Fuoco sono state sospese ieri sera e riprenderanno questa mattina presto, come è effettivamente accaduto. E poi ancora a Silvia, ancora una tragedia in mare, trovato senza vita nel mare di Silvi, il corpo di un uomo recuperato dai bagnini davanti all'Albatross. L'uomo di circa 70 anni non aveva documenti e si sta cercando di risalire alla sua identità. Andiamo avanti. Siamo a Roseto, in arrivo le colonine per ricaricare le automobili elettriche, approvato il protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e Enel. Andiamo ora ad aprire le pagine dello sport. Ecco qui, chiaramente parliamo di Teramo sulla città, parte l'era Iaconi, convinto dal progetto. Presentato il general manager, siamo un po' in ritardo. Il calcio si fa con pallone e strutture. Da inizio luglio sarà ufficiale anche il neotecnico Tedino, il neo-DG 14-15, giocatori di spessore, più altri che completeranno l'organico. Il presidente lieto di poterli affidare in toto la società. E allora andiamo ad ascoltare le parole del neo-DG, del Teramo Andrea Iaconi, intervistato da Jacopo Forcella. Direttore, ricomincia una nuova avventura, quando forse, l'ha detto anche in conferenza, forse non ci sperava più di tornare nel mondo del calcio. No, non ci avevo proprio voglia, non ci speravo, non ci pensavo minimamente. E ritorna però con quale entusiasmo? Ritorno con l'entusiasmo che in questi giorni hanno manifestato i tifosi del Teramo. Quindi non dobbiamo far spegnere questo entusiasmo, però dobbiamo lavorare con serietà, sapendo che il percorso è lungo e faticoso, a volte anche doloroso. Per cui se facciamo le cose per bene, sbagliamo il meno possibile, possiamo accelerare i tempi. È chiaro che per costruire un campo da gioco ci vogliono almeno un anno, un anno e mezzo, e quindi in questo lasso di tempo dobbiamo cercare di fare il meglio possibile e innanzitutto già all'estendo una squadra che dia soddisfazione. Qualche tassello c'è già, le general manager, c'è il direttore sportivo Sandro Federico, ci sarà l'allenatore Bruno Tedino. Insomma, come sta nascendo questo Teramo? Adesso c'è anche Tomei, ci sarà Soprano. Da fare c'è ancora tanto, però già qualcosa è stato fatto. Sì, siamo in netto ritardo. Purtroppo le altre stanno avanti, poi tra l'altro le altre hanno già un'ossatura di squadra, noi ancora no. Dobbiamo valutare quelli che hanno il contratto, ci penserà l'allenatore in ritiro e poi dobbiamo acquistare giocatori perché numericamente non ne abbiamo. Di Obiettivi non ha voluto parlare, però è chiaro che l'entusiasmo porterà questa tifoseria a sognare qualcosa di più di quello che è stato negli ultimi anni. Questa, secondo me, l'ho detto prima, è una svolta epocale. Un Presidente così che risolve le cose importantissime e difficilissime in cinque giorni non ne ho mai trovati. Quindi spero che sia in un periodo fortunato, spero che la nostra esperienza e la capacità di tutti quelli che lavoreranno per la società sia sufficiente per regalare alla città di Teramo successi. Ecco, l'ultimissima che non riguarda Teramo però insomma è notizia di qualche giorno fa il suo Marco Giampaolo si siede su una panchina importante. È una grande soddisfazione perché Marco è arrivato anche tardi, doveva arrivare prima. Andiamo sui quotidiani nazionali vediamo le prime pagine quotidiani nazionali sportivi questo è il Corriere dello Sport che apre così GECO c'è ora Barella l'Inter di Conte prende forma raggiunta l'intesa con la Roma ed in verrà annunciato a breve pronto il rilancio per il talento del Cagliari l'offerta di 36 milioni sarà alzata e poi sotto la pestata campioni d'inverno le Olimpiadi del 2026 assegnate a Milano-Cortina Stoccolma battuta 47-34 risulta la delegazione italiana guidata dal Premier Conte e poi di spalla il biscotto è servito Under a casa Francia-Romania senza tiri finisce 0-0 e dunque l'Italia Under 21 eliminata andiamo ora sulla Gazzetta dello Sport si giochiamo è l'apertura l'Italia vince la sfida olimpica invernale battuta Stoccolma 47-34 Malagò mi ricandido al Coni e poi in basso mercato Juve Delict Ken in direzione Ajax Milan-Torrera l'offerta è pronta e ora tutto sport che apre così la scelta di Delict il difensore italiana che esulta per la segnazione delle olimpiadi invernali andiamo ora rapidamente sul centro e messaggero con le pagine di Sport ecco qui la pagina sulla serie B e sul Pescara Pescara ecco il doppio colpo in arrivo Galano Busellato il Delfino ha l'accordo con l'esterno del Parma il centrocampista si svincola dal Foggi ed è pronto per la firma è ufficiale la primavera alle Grottaglie e poi in basso intervista a Marco Divaio serio e tranquillo vi racconto il mio Zauri l'ex bomber di Juve Lazio è uno dei migliori amici del tecnico Biancazzurro persona straordinaria e poi la serie C Iaconi lancia la corsa alla B sarà un grande teramo il nuovo DG si presenta il salto di categoria va costruito un passo alla volta il patron Iacchini vuole riportare in alto il club stiamo pensando al centro sportivo e tra pochi giorni partiranno i lavori allo stadio e poi ancora serie D va stese su Ansini e Alonzi Chieti c'è la terza cordata i biancorossi sui due giocatori della Grupa Roma che piacciono al tecnico a Meglia un gruppo teatino interessato ai neroverdi ma resta viva l'ipotesi Trevisan ora il messaggero Abruzzo peraltro vi dico che nelle ultime ore c'è il giallo iscrizione che riguarda il Palermo che non risulterebbe iscritto al prossimo campionato di serie B la dirigenza palermitana in parte ha smentito e questa mattina alle 10.30 ci sarà una conferenza stampa allo stadio Barbera per insomma dare tutte le ultime novità circa l'iscrizione del Palermo alla serie B o meno una eventuale esclusione sarebbe clamorosa anche dopo tutto quello che è successo con il cambio di proprietà e la mancata retrocessione in serie C dopo i verdetti dei due gradi di giudizio che hanno portato al play out che ha condannato il Venezia staremo a vedere intanto andiamo a consultare in chiusura le pagine di sport del messaggero Abruzzo Pescara Galano il primo rinforzo l'asse con il Parma nei prossimi giorni porterà il trequartista pugliese al Delfino c'è l'intesa tra Sebastino e DS Faggiano in Emilia due giovani Marafini e Kirilov operazione che sembra slegata a quella che porterà sempre in Emilia Frank Canutel centrocampista senegalese del Pescara e poi il sindaco Sansovini giocherò fino a 40 anni in basso mondiali la Sabatino a caccia del gol la Cina ha una difesa molto forte dice la giocatrice che è originaria di Castelguidone oggi sarà partita equilibrata andiamo ora alla pagina successiva Teramo il DG Iaconi serve programmare il dirigente Giuliese che resterà tre anni al diavolo mette subito chiaro le cose più importanti del nuovo progetto non bisogna essere presuntuosi senza strutture senza settore giovanile non si può fare sport ieri anche le firme di Tomei e Soprano e poi alcuni richiami per il basket gli Sharks attengono lo sblocco di Muaha Stallo per la situazione del play guardia tanta gloria per i giovani Pallamano approda nel Nant la favola di Colleluori e poi in basso per la serie di Chietti si fa avanti pure la cordata di Marchesani noi chiudiamo qui questa edizione di Mattino 6 che tornerà domani mattina alle ore 8 vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 nelle edizioni principali delle ore 14 ore 19 e ore 23 grazie a Loris Bennato in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata a a a Grazie a tutti.